Dietro la manzoniana vicenda della monaca di Monza Geltrude e dello sciagurato Egidio si nasconde una storia reale e misteriosa, trascritta nelle carte di un vero processo e profondamente legata con il territorio brianzolo. Quella di Virginia De Leiva e Gian Paolo Osio. È a questa vicenda che il comune di Usmate Velate, in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, ha deciso di dedicare una mostra sulle orme dello sciagurato Egidio, curata da Paolo Cazzaniga e allestita a Villasca Cabarozzi. Il 22 maggio del 1873 il Manzoni muore a Milano. Questa mostra vuole celebrare la sua figura. Il Manzoni è uno dei più importanti letterati italiani, nonché il padre del romanzo moderno e anche il fautore di questa unità linguistica che ha caratterizzato l'Italia nell'Ottocento. In quattro sezioni, tra filmati, quadri e documenti storici esclusivi riprodotti, la rassegna racconta approfonditamente del Manzoni e dei promessi sposi della monaca di Monza e della vicenda criminale che vide protagonista nell'abrianza del 1600 Gian Paolo Osio. Quando ormai la tresca fra la Geltrude, monaca di Monza e l'Egidio è svelata, in qualche modo l'Egidio cerca di affrancarsi alla giustizia. E così pensa in questa sua fuga di portare con sé due monache del monastero di Santa Margherita di Monza che erano stati complici un po' della sua tresca con Sor Virginia Deleiva. E quindi le convince, gli dice vi porterò verso la Bergamasca fuori dal Ducato di Milano dove sarete liberi dalla giustizia. Il suo intento è un altro, è quello in qualche modo di sopprimerle. Per cui comincia questa fuga, si fermano prima dove ci sono oggi il monastero delle Grazie di Monza, l'Osio getta una prima monaca nell'Ambro, poi questa monaca riuscirà a salvarsi, riprende la fuga con la seconda monaca. Finché arrivano qui a Velate, dove oggi abbiamo allestito questa mostra, l'Osio ha fratelli e il padre qui a Velate, per cui conosce bene la zona e porta la monaca fino sul limitare di questo pozzo e la getta all'interno. Pensandola ad averla soppressa, riprende la sua fuga e sparisce. In effetti la monaca non muore. Il giorno dopo, quando sorge il sole, comincia a chiedere aiuto. Una delle eminenze del luogo di quel tempo, Albrizio degli Albrizi, dato che nessuno la voleva portare a casa sua, la porta nella sua abitazione che era collocata proprio qui dove oggi sorge il Palazzo Belgioioso. avvisa le autorità monzesi che prontamente arrivano e prendono anche questa seconda monaca benedetta Aumati e la conducono al monastero di Sant'Orsola, dove oggi c'è il liceo Deon. La mostra sarà visitabile anche il 27 e 28 maggio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00.